Musica Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini. Ormai vi siete sicuramente abituati a questa nuova formula che prevede per ogni puntata la presenza di un ospite. L'ospite di oggi è Cristian Della Chiara, buongiorno Cristian. Buongiorno a voi e grazie dell'invito, buongiorno. Cristian, allora noi quando abbiamo deciso cosa mettere nella famosa scritta, lo diciamo in gergo, si chiama la scritta sotto pancia, ci eravamo divertiti a immaginare il direttore artistico di tutto, no? Poteva essere una buona idea, no? È uno scherzo naturalmente. In realtà Cristian Della Chiara oggi è qui con noi in quanto direttore artistico dell'Associazione Amici della Prosa e di conseguenza del Festival dei GAD, ma con lui possiamo parlare di tante cose che hanno a che fare con la cultura, con il teatro, col cinema, insomma, con tutto quello che si muove su palchi e su set della nostra città. È bella questa cosa? Beh, devo dire, è bella, mi riempie di soddisfazione e anche di gioia, insomma, ritengo di fare un lavoro molto molto bello e questo non può che farmi piacere, ovviamente. Si è concluso da poco, tutto sommato, la grande avventura annuale del Festival dei GAD, questo festival che da 74 anni senza interruzioni accende fari potentissimi sulla nostra città, da tutto il mondo del teatro amatoriale, ma anche non amatoriale, perché credo che un festival con questa importanza e con questa longevità e con questa autorevolezza attiri l'attenzione anche del teatro professionistico. Certamente il nostro mondo di riferimento è quello del teatro non professionistico, ma dici bene tu nel dire che sono due mondi assolutamente in rapporto, direi, osmotico. C'è uno scambio importante. Quando il festival è nato era un evento di riferimento nel panorama teatrale in senso assoluto. Le persone che hanno, i nostri padri fondatori, sono state personalità assolute del mondo del teatro, del mondo della cultura e anche oggi cerchiamo di recuperare questa commistione. Spettacoli del nostro festival sono stati segnalati o sono presenti anche in stagioni professionistiche, così come ci piace invitare al nostro festival fuori concorso anche personaggi del mondo del teatro professionistico, proprio nella convinzione che non sono due mondi diversi o peggio ancora distanti, ma sono semplicemente sfaccettature di uno stesso unico ambiente che è quello appunto del teatro. Siamo usciti da qualche settimana, da questo festival, ma devo dire che ancora non si è spento l'entusiasmo, la soddisfazione per un'edizione che avrei firmato perché fosse soddisfacente la metà di quanto non sia stata, perché è stata veramente entusiasmante, proprio bella, bella, bella. L'entusiasmo degli attori che traspare in tutte le fasi, dal momento in cui arrivano in città, al momento in cui prendono visione dello spazio dove si esibiranno, poi tutto via via lo sviluppo della gara e per arrivare poi alla fine, alla premiazione, fa capire comunque che sono orgogliosamente amatori, sono orgogliosamente non professionisti, non sono purtroppo non professionisti che avrebbero voluto fare la professione. Giusto, è giusto anche sottolineare il termine amatori, nel senso sono persone che amano profondamente questa disciplina e quindi la fanno nonostante tanti sacrifici, perché ovviamente avendo la vita impegnata per lo più da professione, gli impegni come tutti, per poter dedicare tante energie a questa attività devono amarla fortemente. Questo amore poi lo abbiamo toccato con mano nei giorni del festival, quando le compagnie veramente ci hanno inondato di questo loro entusiasmo, di questo affetto e devo dire che è stato molto bello. Questa formula che dopo un anno sperimentale, nel 2020, quest'anno si è riconfermata, abbiamo cercato di portare il festival alla formula festival vero, quindi una formula molto compatta, tutti i giorni, dieci giorni consecutivi di spettacolo, è sì molto impegnativa, ma è anche quella giusta per far sì che venga vissuta pieno da noi, dai pesaresi, ma anche e soprattutto dalle compagnie che vengono fuori, che si sentono accolti da una città che si stringe attorno al proprio festival, che vive del proprio festival. E questa è una cosa che poi l'hai toccato tu con mano nei giorni in cui hai frequentato, devo dire, molti giorni che hai frequentato il festival, era veramente bello sentire come le compagnie avessero una percezione di una città veramente che si dedica alla cultura, che si dedica al teatro, sono stati attenti turisti della nostra città, oltre che appassionati frequentatori del nostro teatro, quindi direi veramente un'edizione e una formula che è stata sicuramente una scelta giusta. Sì, Rossini TV segue con attenzione tutto lo sviluppo dall'inizio, ci siamo inventati questa cosa insieme dell'avvicinamento, andando a ritrovare le commedie che erano sul podio l'anno scorso, e poi abbiamo seguito tutto lo sviluppo. E abbiamo capito forse una cosa, prendere in mano un'eredità come quella che avete preso voi qualche anno fa di un festival che già allora era tra i più longevi, è un tema delicato, perché la domanda potrebbe essere, sì, ma come fare a mantenere ancora viva l'attenzione? Credo di aver intuito, vedendovi lavorare, che per tenere viva l'attenzione bisogna continuare a cercare novità, a cercare di introdurre qualcosa di nuovo, a cercare sempre e comunque non cullarsi sugli allori. Cioè l'idea è che il festival a 74 anni potrebbe anche ai più iperattivi dare una falsa percezione, quella che non c'è più bisogno di fare niente, tanto il festival c'è. Guardi, direi che i nostri 74 anni di storia sono soprattutto una responsabilità, e non una cosa su cui adagiarsi, sono la responsabilità di meritare di essere coloro che portano avanti una storia così importante e per meritarlo dobbiamo ogni anno investire energie in questa avventura, facendo leva su un gruppo di persone entusiaste di lavorare per questo obiettivo comune e ovviamente cercando anche di introdurre novità, quella appena citata del format, questa formula compatta sicuramente è una molto significativa, ma poi anche altre magari più, più, meno rivoluzionari, diciamo così, che vanno nel suo... Nel nostro piccolo, come Rossini TV, abbiamo introdotto questo premio. Questa è stata una cosa, devo dire, quando ne abbiamo parlato, ci sembrava che fosse impossibile introdurre una novità così a ridosso, lo possiamo confessare, una cosa che ci è venuta in mente, non era presente nel bando, ci è venuta in mente a ridosso della manifestazione quando iniziavamo a ragionare come dare anche sostanza a questo rapporto con Rossini TV che è media partner ufficiale della nostra manifestazione e questa idea di mettere a concorso anche la parte visiva degli spettacoli, quindi che gli spettacoli si potessero promuovere attraverso dei trailer che potevano essere fatti nella maniera più fantasiosa possibile, è stato un numero zero molto, molto, molto divertente. Approfittiamo anche per ricordare la compagnia che ha vinto, che tra l'altro è una compagnia che ha fatto man bassa di premi, la compagnia Satirion, di Leporano, Taranto, erano sempre sul palco e hanno vinto questa prima edizione del premio appunto dedicato al miglior trailer e devo dire l'hanno vinta proprio per distacco, perché il numero di like incassati dal loro trailer ha superato di gran lunga quello degli altri. La compagnia che poi, lo ricordavi bene, ha vinto tanti altri premi, il miglior attore, il terzo spettacolo, il miglior spettacolo in assoluto, migliori costumi, migliora musica, insomma uno spettacolo che, una compagnia ha il debutto a Pesaro ma che ha riscosso tanto, tanto successo. Adesso non vogliamo far torto alle altre, però adesso non stiamo a riraccontare tutti i premi che sono veramente tanti, però partendo dal premio nuovo Rossini TV era giusto ricordare che questa compagnia in realtà ha fatto... Sì, lo spieghiamo, questo premio praticamente nasce da una idea che era quella di legare appunto Rossini TV anche non solo come partner informativo ma in maniera un po' più stretta. E a Cristian è venuta in mente questa cosa perché in effetti ormai negli ultimi anni è evidente che le compagnie non vanno più selezionate andando sul posto come si faceva qualche decennio fa, ma mandano un prodotto multimediale, all'epoca mandavano anche delle videocassette poi ultimamente dei DVD, adesso addirittura dei file. Insomma si mescola un po' questo discorso del palco, dal vivo che poi è il momento del festival, con una premessa che invece si assomiglia un po' di più alla televisione. Allora da lì uno più uno fa due, più uno fa tre, più cinza, è venuta fuori questa idea. Perché non chiedere alle compagnie di mandarci un trailer del loro spettacolo. E a quel punto, visto che i social hanno una parte molto importante nel vostro festival, fare scegliere al pubblico attraverso i like sui social. Insomma è un bel, come direbbero quelli bravi, un bel mashup di tutto quanto. Insomma, no? Esatto. Guarda, parlando di social, scusandomi se citiamo solo qualche premiato, qualche collaboratore, però ogni qualvolta se ne offre l'occasione mi piace ricordare, parlando di social, il lavoro di Tommaso Cocon che è un nostro giovane, ancora giovane, collaboratore, che però sta facendo veramente un lavoro molto molto importante con i social e soprattutto un lavoro molto importante che sta facendo è quello di coordinare quelli che sono ancora più giovani di lui, che sono i ragazzi dell'Oh My God. Io lo ripeto in maniera proprio ossessiva questa cosa, ma il progetto Oh My God è una delle cose di cui vado più orgoglioso, perché è vedere il coinvolgimento così appassionato, ma anche così competente e qualificato dei ragazzi così giovani nel voler promuovere il nostro festival. insomma vengono, fanno riprese, fanno montaggi, fanno interviste, tutto in una maniera più autonoma possibile, solo coordinati da Tommaso Cocon, è veramente una cosa commovente che ci fa, ci dà la conferma che andiamo nella direzione giusta. Io ho fatto una battuta con i ragazzi quando li ho intervistati in occasione dello speciale, ho detto che hanno lavorato talmente bene da sbilanciare verso i giovani la percentuale delle presenze in sala. Questo è, diciamo, hai fatto bene a mettere in correlazione le due cose, perché è l'altro aspetto che ha fatto sì che questa edizione, la ricorderemo con straordinaria soddisfazione e affetto, la presenza dei giovani. Normalmente abbiamo tutti gli anni, noi abbiamo una giuria giovani che poi si fa carico anche di assegnare il premio della giuria giovani, tra l'altro uno dei premi più ambiti, mediamente sono una ventina, un anno possono essere 18, un anno 22, comunque ha sempre attorno alla ventina i ragazzi che hanno aderito alla nostra giuria giovani. Quest'anno, nonostante l'anno particolare, non ci torneremo più, però lo sappiamo che siamo ancora in una situazione un po' particolare, appunto quest'anno la giuria di giovani era composta da 50 ragazzi. 50 ragazzi che hanno scelto di pagarsi l'abbonamento e venire per 10 giorni di seguito a teatro a valutare gli spettacoli. Devo dire un lavoro che hanno fatto con una straordinaria professionalità, non solo si sono ritrovati ogni sera a discutere dello spettacolo appena visto, hanno fatto delle recensioni, degli spettacoli e poi la sera finale hanno fatto una riunione più lunga, hanno deciso la terna degli spettacoli che volevano premiare, hanno scritto le motivazioni, hanno fatto una partecipazione attiva al nostro festival veramente incomiabile. E allora credo che un festival che ha 75 anni, ma che ha la parte più anche vivace, oltre che numericamente importante del proprio pubblico nei giovani, in età scolare, 14-18 anni, insomma è un festival che con legittima speranza può guardare alle prossime 75 edizioni e non solo a quelle passate. Parlando ancora di questa, alle varie difficoltà comunque già previste dal periodo e dal problema se ne è raggiunta un'altra, che poi è diventata invece una grande sorpresa, un grande recupero, quella del teatro. All'inizio proprio dell'autunno sono iniziati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione della Sala della Repubblica al Teatro Rossini, si pensava di cercare di capire se si potesse comunque utilizzare il teatro o meno, poi si è capito che non si poteva utilizzare, per cui la scelta è andata sul teatro sperimentale inevitabilmente. Poteva sembrare una scelta di ripiego, invece mi verrebbe da dire quasi che è stata una fortuna, perché forse anche nell'immaginario, oltre che nella sensazione degli attori, c'è stato un grande recupero di questo spazio cittadino. Guarda, devo dire che faccio pubblicamente ammenda, perché io se amo profondamente quello spazio nella sua declinazione cinematografica, anche per motivi di lavoro mio, personale, occupandomi del Festival del Cina, che ha nel teatro sperimentale la sua casa di riferimento, l'ho sempre guardato con un po' più di scetticismo nella sua declinazione teatrale. Invece faccio pubblicamente, quest'anno ha risposto come struttura, dico, ha risposto veramente la grande. Il fatto di dover ospitare tutta la stagione teatrale al teatro sperimentale ha fatto sì che si sono messi a punto quei due o tre elementi che lo mettessero in graspolvere, diciamo così, e quindi la risposta dal punto di vista tecnico, e qui approfitto anche per sottolineare il lavoro dei tecnici del teatro, che sono nascosti, non si veda, ma sono un elemento prezioso e devo dire che tutte le compagnie, in tutti gli anni che io seguo il Festival, diciamo da dentro, non ricordo una compagnia che non abbia tenuto a ringraziare il Festival, i tecnici attraverso di noi, cioè chiedendosi di riferire ai tecnici il loro ringraziamento e la loro gratitudine per il lavoro straordinario, competente, disponibile, che fanno con le compagnie che vengono da tutta Italia. Quindi l'insieme delle due cose, un teatro che ha mostrato una qualità inaspettata anche nella sua veste teatrale e dei tecnici straordinari hanno fatto sì che, come dicevi tu, non si è risentito. Anzi, aggiungo anche che in taluna di situazioni quella dello sperimentale era la dimensione giusta per ricreare un'atmosfera di intimità, ma non solo per i GAD. Cambio un attimo, faccio una piccola deviazione, subito dopo il Festival c'è stato lo spettacolo di Cristicchi, uno spettacolo straordinariamente intenso che probabilmente proprio al teatro sperimentale ha trovato la casa giusta. Chi ha visto quello spettacolo può condividere, credo, l'idea di aver vissuto un'emozione straordinariamente potente. Probabilmente l'ambiente un po' più raccolto dello sperimentale ha esaltato questa emozione che si è creata. E anche per i nostri spettacoli del Festival credo che questo sia valso. Va da sé che le compagnie che sono ospitate al Teatro Rossini vivono una magia unica nella vita, perché sanno l'importanza di quel palcoscenico e quindi non ti nego che qualche compagnia inizialmente è rimasta un po' delusa del fatto di sapere di questo trasferimento, però è successo prima, perché dopo è vanificata questa cosa proprio perché la sensazione era di vivere in un teatro vero, con tecnici altamente qualificati e quindi non ci si è dimenticati un po' di una scelta che era stata obbligata dalle circostanze. Certo, e adesso si ragiona del 75esimo, si comincia già a lavorare da subito, come sono le tempistiche? Oppure ci si prende un po' di fiato per prendere la rincorsa? Premetto che è stato un festival molto impegnativo, ma lavorare al festival, noi siamo un'associazione di volontariato fondamentalmente, quindi lo facciamo per piacere e in questo senso non ci fermiamo mai, ci sono dei picchi di impegno ovviamente che coincidono con i momenti della selezione, con il momento del festival, però la nostra attività si sviluppa tutto l'anno perché ci fa piacere fare questo e quindi ci dispiacerebbe non pensare al festival, è anche il nostro svago da un certo punto di vista, quindi già ci sono tante idee, devo dire che le prime idee sulle quali ci siamo confrontati per il prossimo anno sono state buttate giù quando il festival ancora non era terminato, perché poi vedendo delle cose te ne vengono in mente altre, quindi senza voler andare troppo avanti, restando sul calendario ordinario, questo è il tempo in cui riprendono le attività con le scuole, che poi abbiamo visto che ci ripagano durante il tempo del festival, però è un'attività non casuale, l'attenzione delle scuole verso il festival non è casuale ma è frutto di un lavoro importante e qui mi piace ricordare Camilla Murgia che è colei che per il festival intrattiene e cura con grande perizia i rapporti con tutte le scuole della provincia e ricordare anche Giuseppe Esposto e Francesco Corleano che invece sono i front men che fanno spettacoli nelle scuole, inizia in questi giorni, quindi la nostra attività di teatro nelle scuole portiamo decine, decine o centinaia di spettacoli in tutte le classi che ne fanno richiesta, quindi cerchiamo di creare un legame forte con gli studenti verso il teatro, con le scuole verso l'associazione, quindi questo è il momento in cui riparte questa poderosa macchina di attività con le scuole ed è anche il momento in cui prosegue, quindi iniziano ad arrivare i copioni del premio Conti, quarta edizione del premio Conti, quindi si iniziano a leggere i copioni del prossimo spettacolo e anche si inizia a ragionare sulla messa in scena dello spettacolo che ha vinto l'ultima edizione del premio Conti, insomma come dicevamo un'attività che non si ferma, che ha solamente come un'onda, dei momenti di picco, dei momenti un po' più rilassati, però un'attività che va sempre avanti, ma perché ci piace che sia così. L'attività creativa non si ferma, il cervello non si ferma. Non si ferma. Cristian abbiamo un minuto da dedicare. Vola il tempo sempre. Esatto, come dicono tutti. Come dicono. Da dedicare, niente, da dedicare ai saluti, ricordando comunque che le attività culturali, teatrali, cinematografiche che si svolgono a Pesaro non si limitano naturalmente al Festival del Gallo, sono veramente tante, la stagione di prosa è stata varata già e proseguirà al teatro sperimentale. Immagino che tu stia già lavorando alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Immagino insomma che, come dicevamo adesso, non ci si ferma mai. Allora, ho la fortuna di fare parte di un mondo veramente molto vivace, che è quello del mondo della cultura del nostro territorio e ritorno a quello che dicevamo prima. Il Festival Gadi è un'occasione, però non a specchio importante, perché ospitiamo tante persone che vengono da tutta Italia e ci trasferiscono un'immagine di una città che a volte noi non percepiamo. Scherzosamente, qualche tempo fa, avevamo lanciato, proprio parlando di questo, sui social l'hashtag facciamoci caso. Cioè facciamo caso al fatto che effettivamente viviamo in un territorio che ha una proposta culturale molto ricca, molto qualificata e se noi non ce ne accorgiamo, chi viene da fuori lo vede, lo percepisce. Quindi tutte le attività a cui fai riferimento che non si fermano o che stanno ripartendo sono attività di grande livello e dobbiamo esserne orgogliosi, ma al di là dei brontolì tipici di noi pesaresi in realtà ne siamo consapevoli, perché se poi la stagione di prosa e il teatro è stato preso d'assalto, se ogni iniziativa è sottolineata da un grande consenso di pubblico che viene da fuori, ma anche del pubblico locale, vuol dire che al di là di qualche brontolì siamo consapevoli di vivere in un territorio fortunato e generoso dal punto di vista dell'offerta culturale. Perfetto, facciamoci caso, è la chiusura perfetta per questa puntata nella quale abbiamo avuto ospite Cristian Della Chiara, direttore artistico dell'Associazione Amici della Prosa e di conseguenza del Festival dei Gadma, col quale si può parlare veramente di tantissime cose, per cui già sin d'ora io ti invito a ritornare e a venirci a trovare ancora per fare un'altra di queste belle piacevolissime chiacchierate che ne sono certo non sono piacevoli solo per me, ma anche per tutti i telespettatori di Casa Rossini. Grazie Cristian, grazie a tutti voi che sono stati con noi e all'appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini. Ciao a tutti. Grazie a tutti.